Immaginate di scoprire che tutto ciò in cui avete creduto era una menzogna. Benvenuti nell'universo di Endless Love, dove l'amore si trasforma in un incubo e la verità è un'arma letale. Questa stagione finale inizia con un colpo di scena che vi lascerà senza parole. Kemal e Asu, un tempo legati da una relazione complicata, ora si trovano al centro di una tempesta. Le anticipazioni parlano di rivelazioni scioccanti e decisioni drastiche. Kemal, sempre più consapevole di non amare davvero Asu, decide di annullare il loro matrimonio. Ma proprio quando sembra aver trovato il coraggio di farlo, un colpo di scena terribile lo colpisce. Una notizia falsa che sostiene che Asu sia incinta. Questa bugia è come una bomba a orologeria nella vita di Kemal. Sapendo di non aver mai avuto rapporti intimi con Asu, si rende conto che qualcuno sta giocando sporco. La sua rabbia e frustrazione crescono, spingendolo a lanciarsi in un'investigazione che svela segreti nascosti e tradimenti profondi. Ogni pista lo conduce a nuove rivelazioni, intensificando il suo desiderio di scoprire chi è il burattinaio dietro questa manipolazione. Secondo voi, chi potrebbe aver ordito questo piano? Lasciate un commento con le vostre ipotesi. Kemal si trova a un bivio. La sua determinazione lo porta a confrontarsi direttamente con Asu. In un momento carico di tensione e verità, Kemal le comunica la sua decisione di annullare il matrimonio. Con una calma che tradisce la tempesta interiore, le confessa di non provare sentimenti sufficienti per continuare la loro relazione. Ma mentre pronuncia queste parole, un'altra rivelazione si fa strada nella sua mente. Chi c'è veramente dietro la falsa notizia della gravidanza? In una scena finale che lascia senza fiato, Kemal scopre che il tradimento arriva da una fonte insospettabile e vicina, qualcuno che ha manipolato le loro vite per motivi oscuri. Questa scoperta non solo mette in discussione tutto ciò che pensava di sapere, ma lo porta a una decisione radicale che cambierà per sempre il corso della sua vita e di chi glista intorno. La stagione conclusiva di Endless Love è un crescendo di emozioni e rivelazioni che vi terrà incollati allo schermo. Preparatevi a un finale che sfida ogni aspettativa e lascia una scia di domande e riflessioni. Nulla è come sembra in questo epico viaggio verso la verità e la redenzione.